La ragazza di Dog Day è diventata umana e voleva baciarmi. L'ho ripresa dalla telecamera mentre visitava casa mia e mi toccava mentre dormivo. Dog Day Girl è a casa mia. Possibile. Mi dispiace, volevo baciarti. Aspetta. Non sono bambalena, hai sbagliato persona. Hai sbagliato persona. Abbiamo bisogno Dog Day Girl. Cosa sta succedendo? È la mia casa. Devo andarci. Oddio, cosa sta succedendo qui? Dog Day Girl. Bevi questo. Ah. No, mai. Dammi quello. No, ora esploderò. Oddio, cosa è successo qui? Perché tutti sono bambalena? Questa pozione ci ha trasformato in bambalena e ora devi scoprire chi di noi è la Dog Day Girl. Bambam, quale pensi sia la tua ragazza? Questo. Posso sentirlo. Non credo. Era Stinky Joel. L'hai baciato. No, 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 man. Quindi abbiamo ancora dieci bambalenas. Ora dobbiamo controllare le vostre voci. Prima bambalena. Wow, bellissima. Prossimo. E ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente. Ok, non sospetto. Prossimo. Ciao, dove ti stai nascondendo? Per favore, fa male. Sono forte. Um, non suona esattamente come bambalena, ma va bene. Prossimo. Ascolta, se riesci a sentire quello che sto dicendo, fai un cenno a qualsiasi telecamera. Cosa? Voce maschile. Sei un sospetto. Prossimo. Quindi ci incontriamo di nuovo. Dove sono i miei figli? Prossimo. Sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza. Sospetto. Prossimo. Mi ha portato in bagno. Questo era strano. Prossimo. Piacere di conoscerti. Um, penso che tu sia malato. Prossimo. Sei stato uno studente cattivo. Bene, ultimi due. Cosa? Ok, questo è Opila, ma l'ultimo. Ok, questo sembra normale quindi tu. Stai uscendo. Avevo ragione. Sono rimaste solo nove bambalena. Quindi ora devo controllare i vostri spaventi. Numero uno. Ok, bene. Prossimo. Non male. Sembra reale. Ok, questa persona era sospetta prima. Attaccami. Dove pensi di andare? Wow, era come bambalenas. Non sei più un sospetto. Prossimo. Aia la mia testa. Era reale. Prossimo. Ora tu. Cosa era quello? Non è bambalena. Fai di nuovo. Il secondo era reale. Prossimo. La mia testa. Ma era uno spavento molto sospetto. Prossimo. Di nuovo. Oh fratello, perché hai lo spavento di Nabnab? Perché il dottore ha cambiato il mio cervello. Sospetto. Prossimo. Unne. Spavento incredibile. Mi piace. Sei reale. Prossimo. Cosa era quello? Lo spavento di Fiddles. Sospetto. Prossimo. Tu lo sai. Aia. Perché lo spavento di Bambam? Oh, ho appena cliccato il pulsante sbagliato. Era ancora Bambam. Stai venendo eliminato. Ah, era Bambam. Ops. Ok, prossima categoria. Disegnati ora. Ok, fatto. Non sono bravo a disegnare. Facile. Non un bel disegno. Prossimo. Non il migliore ma ok. Prossimo. Wow. Prossimo. Wow. Buono. Prossimo. Brutto. Sei un sospetto. Prossimo. Um. Perché c'è un Stinger Finn? Cosa? Um e nulla. Strano. Prossimo. Buono. Wow. Hai dipinto un modello 3D. E l'ultimo. Um. Scerifo che diavolo. Mi dispiace ma stai venendo eliminato. Ciao ciao. Ah, avevo ragione. Non ne restano molti. Prossimo devi disegnare la tua cotta. Facile. Mostrami. Ohaio Bamban. Prossimo. Bene. Ok prossimo. Cosa? Figo. Prossimo. Bambino ma Bamban. Quindi ok. Prossimo. Bamban malvagio. Bene. Questa è la mia cotta. Aspetta. Cosa è questo? Um e... E tu? Ragazzi siete sospetti da ora. Ma ora? Bambalena era molto forte quindi colpisce questo muro. Non è il migliore. Prossimo. Quello blu. Bambalena era molto meglio. Prossimo. Quello rosso. Lasciami pensare. Meglio del precedente. Viola e arancione. Perché questo? Viola molto bene. Ma arancione. Questo è brutto. No no no. Ne restano tre. Facciamolo. Vai. Siete al sicuro ragazzi. Mi dispiace fratello ma sei falso. Per favore no. Stinger Flynn. Quindi ne restano solo sette. Ok. Quindi ora ho una domanda. Quando Jambo Josh ti ha colpito e afferrato. Dove sei andato? La risposta corretta è nella stanza su andate. Je ne suis pas d'oé porre de ça. Um siamo andati a un appuntamento. Stavamo bevendo caffè. Per favore lasciami in pace. Wow. Mi chiedo dove l'ha portata. Sembra reale. Ok. Quindi ora tu. Lo stesso. Data. Ok. Lasciami pensare. Mi ha portato per l'operazione. E voleva cambiarmi. Ah. È ora di cambiarti. Ah. Perfetto. Un strano. Ok. Tu. Mi ha portato a Umme. In prigione. Cosa. Non credo sia corretto. Ok tu. Data. Prossimo. Mi ha portato fuori per un appuntamento. Ok. Tu. Mi ha portato in bagno. Cosa. Metti like e iscriviti o Bambalena sarà nel tuo bagno. Fratello sei un sospetto. E l'ultimo. Sì. Ok. Non riesco ancora a scegliere chi uccidere. Quindi ora. Bambalena era molto veloce. Benvenuti al torneo finale. Oh my god. Siete pronti? Sì. Sì. Wow. È così veloce. Prossimo. E prossimo e prossimo. Ok. Vediamo chi ha vinto. Bravo. Sei stato veloce. E aspetta. Perché ne manca uno? Mio dio. Mi dispiace ma devo ucciderti. Ciao. Lumaca seline. Bambalena era intelligente. Quindi ora risolvi questo quesito. Vieni. Una mela più una mela equivale a? Due mele. Hai ragione. Bene. Prossimo. Pomodoro più acqua equivale a? Zuppa di pomodoro. Hai ragione. Sei legittimo. Prossimo. Aereo meno carburante per auto equivale a boom. Wow. Sei così intelligente. Prossimo. È così facile. È zuppa di pomodoro. No. Cosa? Assassino più coltello equivale a morto. Non sei bambalena. Ciao. Zolfius. Non bene ma abbiamo solo 5 bambalene rimaste. Ok. Quindi disegnati e poi diventa quello. Tu per primo. Fatto. Wow. Sembra bambalena. Ok. Quindi ora per il prossimo. Facile fratello. Aspetta. Cosa è questo? Sei un sospetto. Ok. Dopo un sospetto il prossimo. Andiamo. Bambalena più nabnab. Molto strano. Ma ok. Ora tu. Cosa è questo? Zolfius più bambalena. Prossimo. Facciamolo. Cosa è questo? Fratello. Stai ricevendo una spilletta di sospetto. Quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata. Mostrerà chi è reale e chi no. Vado per primo. Potresti essere bambalena. Ok. Quindi il prossimo. Questa pozione l'ha eliminata? Fratello. Ok. Quindi il prossimo. Grande prossimo. Mio Dio. Questo è sospetto. Hai il corpo di nabnab. Quindi il prossimo. Questo è falso. Era Coach Pickles. Mi dispiace. Ok. Quindi abbiamo solo quattro bambalene. Ok. Quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita. Cominciando con il primo. Lei era super forte. Perché sei così forte? Ah sono sempre stato così. Ok. Questo era corretto. Bambalena è forte. Prossimo. La radiografia mostra che all'interno del costume di bambalena ci sono due persone. Ok. Ora vediamo cosa c'è dentro di te. Cosa? Due persone. Ok. Questo è sospetto. Due persone sono in Pigster. Lei ha ucciso Bambam perché era con nabnablena. Ok. Bambalena potrebbe essere gelosa di Bambam. È corretto. Lei era innamorata di Pigster. Aspetta. Tutto questo mi dice che sei un Pigster. Avevo ragione A. Ne restano solo tre. Lei è stata morsa da Bambanni poi ha perso la mano. È vero e corretto. Prossimo. Lei era ultra intelligente e ha risolto un milione di problemi matematici. Questo è il problema matematico più difficile del mondo. Due più due. Quattro. Mio Dio. Sono così intelligente. Sei intelligente come Bambalena. Era molto lenta come una lumaca. Era come una lumaca quando camminava. Mostrami come cammini. Mio Dio. È la cosa di Lumaca Selene. Strano. Prossimo. Lei puzzava. Bella cena Bambalena. Non mi sento così bene. Oddio cosa. Mio Dio. È come Stinky Joel. Aveva un sacco di peli sul corpo ed era disgustoso. Che diavolo. Strano. Aveva una grande pancia perché amava mangiare. Fratello. Stava spaventando i nerd. Siete tutti nerd. Odio i nerd. Attacco. Ok prossimo. Lei era la cotta di tutti. Anche di Adam di Lenkybox. Tu scrivi questo. Non ho scritto. Non ho scritto. Non ho fatto questo. Stop. Non ho scritto. Stop. Sono seriato. Sì. È vero. Tutti amavano Bambalena. Aveva dei bambini con Bambam. Mostrameli. Wow. Sono dolci. È stata colpita da Jammo Josh. Tutte le cose qui sono corrette. Ma ora passiamo alla prossima categoria. Ora devi costruire la tua statua. Il migliore equivale a vincere. Ti sto chiudendo e aspettando i risultati. Cinque ore dopo. Ok. Vediamo i risultati. Wow. Um. Non male. Prossimo. Cosa è questo? Non è Bambalena. Mi dispiace. Sospetto. E l'ultimo. Wow wow wow. Perfetto. Mi dispiace ma stai uscendo dalla competizione. Jammo Josh. Mio Dio. Ok. Quindi sono due Bambalene rimaste. Vediamo cosa hai fatto. Lei attaccava le persone ma queste schivavano il suo attacco. Sembrava un ragno con un sacco di denti. È anche il ruolo di Nabnab. Fratello. Era un maschio. Aspetta. Bambalena è una femmina. Non un maschio. Ok. Sai cosa? Sei falso. Impossibile. Impossibile. Nabnab. Ok. Quindi questa è una vera ragazza Dog Day. Sì. Finalmente mi hai trovato. Ciao. Mi hanno detto che tutto ciò che disegno diventa reale. Testiamolo. Ho creato dei bambini bellissimi a... Mutiamoli. Fatto. Non mi sento bene papà. Vieni qui papà. Ancora. No. Oddio. Ha funzionato. Il mio pennello è il migliore. E me aspetta. Ehi. Riportaci alla normalità. Oh. Orario della lezione. Bambini. Disegnatemi. Facile. Buono. Evviva. Il mio turno. Buono. Lascia che te lo disegni. Che cos'è questo? Cattivo. Aspetta. Mi dispiace. Ho troppo potere. Non disegnerò mai più niente. Popcat cosa hai fatto? Ho bisogno di disegnare. Fatto. È la tua fine Popcat. Are you sure about that? What the hell? Oddio. Cosa è appena successo? Se ho dei superpoteri, come posso fare soldi? What is that? Guidare attraverso quei dossi per un milione di dollari. Oh my god. Prima io. Ah, perdenti. Il mio turno. Posso provare? Ah, sì, ma perderai. Devo disegnare una macchina. Fatto. Wow. Sta volando. Aspetta, come? Facile. Questa è impossibile. Ho bisogno di una nuova macchina. Ah. Andiamo. Oh mio dio. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Non posso credere a quello che è successo, ma ecco il tuo premio. Sono ricco. Sono ricco, ma ne ho bisogno di più. Chi salterà più lontano vincerà l'intera terra. Oddio. È questa la mia macchina? Sono il primo. Bel salto. Il mio turno. Che bel salto. Tocca a me. Per denti. Buon salto. Tempo per me. Noob. Arriverò alla mia Lambo. Salto intermedio. Ora è tempo per il bagno. Aspetta. È troppo lento. Lasciate che ne disegni una nuova. Fatto. Wow. Oddio. Quasi la fine. Congratulazioni. Hai vinto la terra. Andiamo. La polizia. Lui sta imbrogliando. Catturatelo. Devo disegnare una macchina. Fatto. Wow. Devo disegnare. Disegnare di nuovo. Fatto. Ok. È ora di distruggerli. Wow. Ha funzionato. Capo. Cosa devo fare? Saltami addosso. Grazie. Ora devo nascondermi perché ce ne sono altri. Cosa dovrei disegnare dopo? Um. Pokat. Aiutami. Stanno distruggendo la mia fabbrica. Oddio. Disegnerò personaggi personalizzati. Non ti preoccupare. Fatto. Wow. Ora penserò a qualcosa di strano. Fratello. Che bello. Sta qui. Prossimo. Ah, incredibile. Ultimi due. Oddio. Prossimo. Fatto. Wow. Ok, attacco. Grazie mille. Pokat. Nessun problema. Ma ora sei in arresto. Mi dispiace. Cosa? Si fermi. Si fermi lì. Incredibile. Sono in prigione. Disegnerò la fuga. Bello. Bello. Um. Um. Um ciao. Sto valutando da ora. Ha perso la testa e ha bisogno di qualcuno che ne disegni una nuova. Lo farò io. Bello. Tutti i suoi amici sono morti e ne voleva di nuovi. Tutti i miei amici sono morti. Aiutami per favore. Disegniamo. Fatto. Evviva. Prossimo. Stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire. Mi sta maltrattando. Per favore disegna un crocifisso. Non c'è da preoccuparsi. Grazie. Grazie. Tutto l'uomo. Il prossimo è Zolfius. Si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco. Ok. Fammi provare. Fatto. Grazie. Voleva essere il più grande della terra. Oh, sarà difficile. Ma ce la farò. Ok. Ce l'ho fatta. Bene. Ha rubato l'autobus con i bambini di Ramby Friends. È brutto. Quindi ciao ciao. Facile. Ok, il prossimo. È stato picchiato dai bugli e voleva denti e rossa nuove per spaventare la gente. Disegniamo. Fatto. Wow, questo è così figo. Ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito. I bambini restano qui per un momento. Bei bambini. Una buona cena. Aspetta, non mi sento così bene. Perché ci hai mangiato? Ehi, se vuoi ottenere Robux per i prossimi dieci giorni metti a mi piace e iscriviti ora. Ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone come tazzo. Smettila di inseguire le persone. Fratello, il prossimo. Aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo. Noi. Sai disegnare i personaggi? Sì, ho un'idea. Perfetto. Il prossimo. Fatto. Oh no, fa schifo. Ma lo amo. Aspetta a prendere il vestito. Grazie. Il prossimo. Fatto. Forse l'ultimo. Oh my god. Disgustoso. Che cosa hai detto? Il prossimo. Voleva valutare ogni jump scare di ognuno da Garten di Bambam. Oggi valuterò tutti i vostri jump scares. Prima. Hai. Ora tu. Buono. Prossimo. Ora tu. Ah, cattivo. Non fa paura. Il prossimo è lo squalo. Spaventoso. Ora Scream Eugen. L'ultimo. Buono. Wow, è stato impressionante. Il prossimo è morto. Voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di Bambam. Mostrerò la tua faccia nella vita reale. No. E me sei metà cattivo e metà buono. Va è libero. Prossimo. Aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle. Ehi, io farò una buona cena. Dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando. Farò saltare in aria le loro case. Ah. Buono. Ora tu. Sono troppo debole. Finalmente. L'ultimo. Non funziona. È troppo forte. Sei sopravvissuto? È bello. Voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro. Lo farò. Wow, grazie. Voleva una moglie e dei figli. Ok, ti disegnerò una moglie e dei figli. Siete dei bellissimi bambini. Ah, bello. Lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburger. Quindi li vuole indietro. Cibo piacevole. Torna indietro. Cuciniamoli. No, 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 no. Per me sei una persona perfetta. Ok, prossimo. È così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico. Non credo che le tue scorreggie siano così cattive. Sei sicuro? Sto per morire. Mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo. Oh, cos'è questo? Lo mangerò. Buono. Oh, aspetta. Devo andare in bagno. Buono. È ora di lavarsi le mani. Che diavolo. Il prossimo. È così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso. È ora di fare pipì. Fatto. No. Ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore. Lascia che lo disegni. Fatto. E per me fai solo schifo ma sei una brava persona. Prossimo. Aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei. Per favore, baciami. Sei così intelligente che dovremmo stare insieme. Ok. Prossimo. Volevano avere dei figli ultra intelligenti. Ok. Fammi disegnare. Stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla. Wow. No. 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 Smettila di inseguirmi. Devo disegnare. Ok. Fatto. Ora. Ogni garten di Bambam è morto. Jambo. Bambam. Opia. Praticamente tutti. Non preoccupatevi ragazzi. Troverò l'assassino. Che diavolo. Metteteli giù. Ora. Prima. Toilet perché la tua immagine è accanto a quella del garten di Bambam. Non puoi conoscere la verità. Grazie cameraman. Nessun problema. Ora. Dimmi cosa è successo. Le abbiamo impacchettati dei bagni. Per favore. Lasciami in pace. En. Ti abbiamo preso. Tu l'hai fatto. No. Non sono stato io. Papà aiutami. Papà. Oddio. Cosa. Oh no. Lui vuole prendermi. Oh. Oddio. Grazie ragazzi. Ma ora. Li hai uccisi tu? No. Ho fatto guerra con loro. Allora. Li hai uccisi. Il caso è chiuso. Oddio. No. Non ero io. Sei accanto a lui. Ok mi avete preso. Li ho fatti schiantare. Impossibile. Sei stato tu. Ma loro sono sopravvissuti. Sì ma poi ho iniziato a cambiare. Oddio. Li hai cambiati. Sì. In mutanti. Andrai in prigione. No aspetta. Ma loro mi hanno distrutto. I know we can do faster. Ok questa volta hanno vinto. Sì. Quindi sai che non li ho uccisi. Ma aspetta. Cosa è questo? È niente. Lascia che veda. Mettiamolo qui. Oh no. Perché avevi tutte le loro morti registrate su VHS? Non ero io. Chi? Allora. L'hai ucciso tu? No. Prometto. Il mio gioco stava morendo quindi volevo mostrare i loro volti. Abbiamo tutto il cartel di Bambin qui. Vediamo i vostri volti e la vostra storia. Jester. Cosa? La mia storia è triste. Oh no. Oh no. Oh no. Muahahaha. Oddio è così triste. Eri un clown prima. Prossimo canguro fatato. Oh my god. Impossibile. Una ragazza. Oddio. Oh no. Oh no. ok questa era bella prossimo uno john dream ok prossimo oddio alto victor elon musk cosa molto bella la storia 1 il prossimo è hunter team vediamo cosa mi cado avvocato wow è una storia bellissima ok ora nibbler vediamo flim flam sei una brava persona flim flam rispetto prossima miss luna vediamo la tua storia che diavolo eri carina vediamo il tuo volto dopo qualche anno oddio quindi prossimo ora è il turno del mio preferito tamataki oddio non questo pochi istanti dopo uomo così sei diventato reale vediamo il tuo volto ora e il secondo dj khaled davvero il prossimo estinger vediamo era triste ora il volto giga shad ok è il prossimo silent steve wow ti hanno ucciso ora il volto non hai un volto ok è tutto siete tutti distrutti allora li hai uccisi no ho solo mostrato il loro volto cosa sta succedendo vedete tutti interrogati aspetta popcat il ragazzo che li ha eliminati aveva questa voce ascoltala ok li ascolterò non questo non è questo davvero ancora non è questo prossimo nonno cos'era che diavolo era non tu non sei tu ok ultimo si lo abbiamo preso sei tu poliziotto li hai uccisi tu no l'ho colpito accidentalmente jumbo aiutami per favore non puoi scappare ora sparare è sopravvissuto dopo questo si sono sicuro che diavolo cosa sta facendo qui metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per 10 giorni chi sei e li hai uccisi tu sono la ragazza dell'orologio alternativo e sono stata proprio nella loro casa ragazzi qualcuno è in casa nostra ragazzi dobbiamo correre il caso è chiuso li hai uccisi tu è morta ma chi è questo johnprop sei stato tu no io li stavo creando tutti ragazzi tutti voi sarete trasformati nei miei mostri wow sono il prossimo wow sono il prossimo turno di nab nab wow ho un corpo nab nab cappello da festa sono pronto sono il prossimo bello 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 io sono il prossimo siete tutti pronti aspetta chi è questo è ora di trasformarvi tutti in bagni prima tu no ora il resto il mio esercito è pronto aaaah se non li hai uccisi tu allora chi? oh no oh no chi è questo oddio oh scusa ho preso il tetto sbagliato aspetta hai ucciso il garten di bambam? no ma ci provo sempre li hai uccisi tu? ho provato come hai potuto vedere ma mi hanno distrutto allora se non sei stato tu allora Justin cosa stai facendo qui? eravamo normali youtuber ma ci hanno spaventato e messo nei bagni oh ok non hai fatto nulla perché l'hai ucciso? stavo cercando le mie scarpe ok ma saiki potrebbe averli uccisi si certo cameraman glicciato oh dio è a toilet ma mostrami ora il cameraman glicciato oddio il cameraman glicciato ti ha tagliato la testa si perché mi hai fatto uno spavento e li hai uccisi tu? no te lo prometto ho solo messo una telecamera spia a casa loro vai a spiarli va bene papà va bene papà oddio quindi li hai sfruttati sono morti cosa sta succedendo cosa sta succedendo mi ha tagliato il naso stai zitto oddio li hai uccisi quindi hai ucciso il resto del garten di bamban? ho provato ok penso che siano qui nessuno ci troverà sei sicuro? cosa è questo? che cos'è questo? tagliamolo facile o quindi hai cercato di ucciderli? questo è male impossibile il prossimo è morto aspetta vedo qualcuno li hai uccisi tu? non l'ho fatto avevo il mio esercito di villager i villager hanno costruito la mia statua di toilette perfetto erobrine smetti i villager non sono i tuoi lavoratori cosa hai detto? attacco finalmente ti abbiamo preso mi dispiace andrai in prigione ok il caso è chiud penso che entrerò devo scegliere rosa muso di maiale o muso di formicchiere maiale quattro occhi o due quattro prossimo zoccoli di maiale o zampe di pollo zoccoli ovviamente ha dai una testa o due teste una prossimo denti da bambino o denti da nonno nonna ha amo mia nonna mamma mia orecchie da gatto o orecchie da elefante piatto cosa? sto bene essere un cuoco jumpscare più spaventoso o carino il più spaventoso wow sono un maialone wow sono il prossimo essere nero o grigio nero bello prossimo buco con denti sulla pancia o senza denti come squalo lì dai avere ali o pinne pinne dai squalo o delfino squalo o grande sorriso o grande tristezza sorriso forte o debole forte assassino di stinger clean o amico di stinger clean ovviamente assassino bello mio dio sono il prossimo ciano o rosso ciano aspetta un sacco di braccia o no tante dai sembrare spaghetti o pizza spaghetti sono fatto di noodles dieci occhi o occhi sporgenti occhi sporgenti essere cavaliere o ninja ninja ok prossimo denti affilati o no no dai jumpscare o jumpscare più spaventoso quello più spaventoso mio dio sono così spaventoso sono il prossimo tono di pelle viola o blu viola magro o grasso magro nessun occhio o tanti no braccia lunghe o corte lunghe ma tu aiuti occhi sui piedi o sulle mani occhi sui miei piedi debole o forte debole no sembro male jumpscare o no jumpscare bello è fantastico wow sono il prossimo giallo o rosso giallo al 100% collo lungo o corto lungo ovviamente dai la mia testa occhi spaventosi o normali spaventesi wow lingua lunga o corta lunga ovviamente wow 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 bello prossimo puntini o strisce cosa intendi dai puntini mio dio essere piccoli o giganti giganti jumpscare più spaventoso o carino il più spaventoso in cosa mi sono trasformato wow è il nostro turno siamo trigemini scegliamo il colore prossimo scelgo tre occhi felici tre occhi arrabbiati occhi tristi ok non c'è opzione per i denti e non dovremmo prenderla scegliamo denti da bambino denti normali un sacco di denti prossimo ragno gu prossimi cappelli prossimo avere veleno o no avere wow sembri così fico il mio turno il mio turno incredibile oh mio dio dove sono ah il primo è pronto tempo per altri ehi cosa ci hai fatto ti distruggeremo ora mai da ora siete miei figli e io vi controllo cosa dove sono fare tutti i vostri jump scares che equivale a uccisi prima la giraffa andava bene ti sto prendendo va bene prossimo zolfius ah questo era spaventoso ti sto prendendo ok il prossimo è apollo ah era medio ti sto prendendo cacca ciao ciao opila vai a spaventarmi ho paura paura media ti sto prendendo va bene ora stinger facile nu fa male spaventa passeri fantastico fratello ti sto prendendo grande ora lo sceriffo vieni ah era triste non spaventoso cosa ti sto prendendo male oh no spaventa passeri pigro fratello per favore no ah lumacca ti sto prendendo fantastico fratello va bene il prossimo silenzio steve meglio stare attenti cosa era così spaventoso ti sto dando grande ancora prossimo fratello sembri un bambino cosa hai detto ehm era ultra doloroso fantastico fratello prossimo pronto no ti sto prendendo grande ok ora tempo per pigster svegliati ok scusa jump scare non fa paura cosa ti sto prendendo male male meglio correre ora dai devo dignitarmi di lui ora tu se vuoi salvare la vita di stinger fallen metti mi piace e iscriviti in due secondi grazie bene ti sto prendendo grande noodles vai abbastanza bello l'ultimo mamablena per me è molto medio cattivo ok quindi siete nel mio team ragazzi chiamiamo la polizia siamo qui polizia polizia prendeteli ok cosa sta succedendo tutto il tuo team è arrestato poliziotto cosa stai facendo qui devi valutarli oh bello ha rubato il maialone con la sua grande mano era mio padre mostro non mi dispiace prossimo 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 quando l'ha fatto ha mostrato il vero volto del maialone wow dove sono vi mostrerò il mio vero volto um ok mio dio il tuo viso è bellissimo si è innamorato di un altro stinger flinny va bene aveva un sacco di fratelli e catturavano bambini in piscina lasciami in pace per favore mi nasconderò nella piscina um cos'è questo stinger prendeteli no 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 male 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 stai morendo aspetta sento l'aggiornamento wow sono a blocchi il prossimo il dottore iniziò a catturare ogni giardino di bambam nelle gabbie tornate indietro sprovveduti ora siete chiusi in gabbie era molto scortese da parte del dottore erano chiusi in gabbie dal dottore perché voleva farli mutare ok ora vi muterò per favore no no per favore non farlo troppo tardi amici miei troppo tardi ragazzi siete mutati mio dio li ha chiusi tutti in gabbia ed era troppo piccola per loro ok ragazzi per me siete brave persone venite qui cos'è questo ok aggiornamento bello il prossimo era una nuova entità nel giardino di bambam mi chiedo chi sia questo vuoi vedere la mia forma finale umm sì ma poi ha mangiato la persona che lo stava mangiando credo che il mio ramen sia pronto perfetto qui ecco a voi grazie smetti di mangiarmi aspetta cosa aspetta cosa wow è male erano i noodles delle persone e venivano avvelenati da esso chi vuole noodles io 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 non mi sento tanto bene um è meglio che mi nasconda male stava facendo jumpscare alle persone come noodles wow bei sushi per favore esci non riesco a toglierlo per me dovresti scende scusa sento il prossimo aggiornamento wow prossimo aveva un'intera armata di frutti questa è la mia intera famiglia ha organizzato un quiz truccato in cui la gente moriva benvenuti al gioco a quiz prima indovinate chi è questo un bambam sbagliato prossimo due più due uguale quattro facile no cinque cosa è tutto per oggi ciao quando qualcuno rispondeva male diventava arrabbiato e uccideva voglio vincere di soldi indovinate questi due personaggi per primi opila nerd e stinky noa no uccello opila e stinky joe sbagliato attaccala fa male ora attacco finale per me per me sei davvero cattivo tempo di aggiornamento wow prossimo aveva un collo così lungo che gli aerei volavano verso di lei ah 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 sei così piccolo meglio guardare mia sorella oh my god oddio cos'è questo wow è strano stava spaventando la gente a chilometri a causa del suo collo lascia mi in pace ah 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 eccomi al sicuro um me aspetta oh my god di nuovo è strano si stava confrontando con fammi farlo per te qualcuno può aiutarmi a far uscire i miei bambini si grazie ora il secondo sono pronto figlio siamo bloccati era così cattivo e mischino ciao prossimo artista ciò che disegna diventa reale quindi disegna molte ragazze lascia che disegni qualcosa wow wow baciami si disegna un auto volante e uno stile di vita da miliardario voglio essere miliardario così tanto wow sono ricco ha disegnato nuovi mostri spaventosi dal giardino di bambami se ne è pentito per me eri una cattiva persona sento l'aggiornamento wow chissà cosa c'è dopo è il momento per loro ha fatto la sua canzone è una triste ma qualcuno l'ha adottata prima è stata portata via dalla famiglia dalla polizia questa città non è una città questa città non è una città bisogna tornarlo al suo reale mio dio è una storia vieni qui opila dai grazie aggiornamento wow il prossimo avevano una triste storia di fondo per me è così triste vieni qui il prossimo è il poliziotto Barry ha mostrato tutti i volti di Darten of Bambam oggi vi mostrerò tutti i volti di questi criminali prima bambalina oddio impossibile bel volto prossimo Bambam sembri sospetto wow hai questa piccola lingua prossimo sceriffo oddio amico gemelli in costume il prossimo è lumaca pirata prossimo jumbo sto iniziando a vedere wow il prossimo è opila ahahahah cosa prossimo nab nab brutto e stinger umm non ha un volto dai era male il poliziotto Barry ha mangiato troppi prigionieri e aveva bisogno di un'operazione scapperò ti mangerò no 5 minuti dopo ehi dottore ho bisogno di un'operazione non mi sento bene ok vieni oddio la tua pancia è così male prossimo morto il poliziotto Barry ha rubato il balloschibidido e ha iniziato a ballarlo ha chiuso tutti i meme in prigione il cuoco del poliziotto Barry faceva pancake con personaggi famosi e poi diventavano reali ok fratello mi hai fatto arrabbiare ciao ok ho finito dal jumbo Josh più piccolo a quello più grande e al jumbo più grande del pianeta devo salire su queste montagne russe controlla la tua altezza ok nessun problema sei troppo piccolo vai al posto per bambini sarai il mio nuovo amico cosa? è il mio turno beh sali ho un'idea scaverò la buca e ci entrerò si facile è stato facilissimo pensavi di potercela fare jump scare non posso arrendermi aspetta posso saltare attraverso andiamo ce l'ho fatta e sono diventato più alto il prossimo wow e poi ehi non lasciarmi devo saltare sì e sì wow e più alto ehi fratello cosa? come ci sei arrivato? mi sono intrufolato ti spezzerò tutte le ossa fermati le mie ossa papà mi ha toccato non mi importa lui è più alto e migliore grazie ma ora la persona che salterà sopra quegli edifici otterrà il male ed è facile facile wow sei così alto il mio turno difficile il prossimo tentativo sì wow questo è difficile ah sono un professionista figlio sono fiero di te cosa? salto yes yes no 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 perdente vero togliamolo di mezzo no 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 il giorno dopo sono così cattivo che papà mi ha cacciato dalla famiglia fermati ragazzi è il momento dell'attività all'aperto i bambini saltano attraverso quegli animali perdente perdente tutti mi maltrattano sempre devo smetterla bello yo perdente come è possibile il potere della mente oh my god sì e l'ultimo ancora no e adesso? non può essere così chiamo mio padre maison dovrebbe vincere ha barato ok controlliamo ok la persona che salta sul livello più basso perde oh my god ok sono il primo ottimo salto penso che giambo non mi batterà è il mio turno no avrò il miglior salto di tutti voi no abbastanza buono grande salto ok il mio turno è stressato ma posso vincere wow ce l'ho fatta e sono ancora più alto wow ce l'ho fatta e sono ancora più alto ok sei davvero bravo congratulazioni gratulazioni sì è vero eri l'uomo più alto del mondo grazie un me cosa? non può essere così un me un ciao distruggi le sue ossa distruggi le sue ossa mi ha rotto tutte le ossa e sono in prigione e lui ora è il più alto tu sei la persona più alta grazie devo uscire torta mangiamo wow era con la chiave corri corri ora devo saltare saltare ok questo è difficile papà aiutaci sono così alto bello ah è il vincitore nel frattempo questa è una gara per la persona più alta del mondo sono il primo bravo buono non abbastanza mi fanno male le ossa è il mio massimo ma sono ancora il migliore aspetta aspettate il mio tempo per salire no non puoi andare più in alto io posso a l bozzo non può essere così farò il furbo cosa? hai bevuto una pozione illegale e adesso? opi la verde ha vinto no aspetta sto sognando o sta diventando più grande sono lontano vero? l'operazione è finita in sicurezza jumbo è la persona più piccola del mondo non può essere così sono scappato via ora devo tornare alla mia altezza veloce salto sì wow mano wow è bello opi la verde mi ha detto di colpire te e lo farò il prossimo fermati fermati questo è difficile wow ultra salto ora ora cosa? sono più alto umme facile salto bello bello il prossimo salto wow aspetta ho sentito che qualcuno prenditelo oh salto oh my god oh my god l'ha fatto oh no omg veloce devo saltare mi piace e iscriviti e avrai fortuna per il giorno successivo ma se non è così wow il prossimo difficile ma ce l'ho fatta e l'ultimo salto oh my god salto mi è riuscito opi la mettiamo fine alla nostra guerra con la persona della compressione di dimensioni chi vince può tagliare le gambe dell'altra persona ok noob sono il primo bene questo è il mio limite è il mio turno è il mio turno oh no è il mio massimo devo distruggerlo in qualche modo sono svenuto aspetta opi la un uccello opi la verde è il nostro dio opi la verde è il nostro dio devo distruggerla out ma prima ho bisogno di aiuto poliziotto berri puoi aiutarmi? opi la verde è troppo potente sì questi sono i criminali più alti del mondo dagli un punteggio per farli aiutare te ok prima cosa ha le gambe lunghe perchè è un robot mostrami omg qualcuno ha fatto 100 copie di lei per distruggere il mondo ma lei ha distrutto quelle copie con le sue grandi gambe tutti i miei megan sono pronti i am a robot aspetta chi è questo? fermate subito le vostre azioni fermati 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 non è stato male ballava danza lirica e per sbaglio distruggeva gli edifici la mia casa è un terremoto ti do un voto negativo scusa no prossimo saltiamolo sì 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 è la persona più grande del mondo questa è una gara per i mangiatori più veloci del mondo pronto? via che cosa? fatto è troppo grande bene ti ho sempre apprezzato bro ha fatto una collaborazione con mercoledì e tutti l'hanno amata era divertente ti do un buon voto è dalla turchia e la turchia ha problemi con i terremoti quindi vuole che le persone aiutino donando unisciti alla nostra squadra Skibi prossimo sei così grande era così grande che la sua testa è passata attraverso il tetto voglio essere più grande sua moglie stava partorendo e i bambini sono usciti grandi penso che sia arrivato il momento Ohio Bert ho bisogno di te nella mia squadra vai al buono stava combattendo con King Kong senza sapere che lui era il suo avversario mi chiedo chi sia il mio avversario ah ti distruggerò wow hai perso contro King Kong io ero sempre nella squadra di Godzilla aveva dei bambini grandi come lei ha combattuto con Siren Head nella vita reale in Cina bro what are you talking about cosa bene l'hai battuto prossimo era super grande ma super me lo ha portato in aria e lo ha distrutto questa è stata la scena migliore che abbia mai visto bene prossimo i suoi figli sembravano di Ohio mostrami i tuoi figli ok sono dell'Ohio morirà all'età di 90 anni ma sapeva che era il suo momento e andrà in paradiso oh va benissimo Sheriff e Lumaca voleva essere più grande dei suoi amici Jumbo Josh e Fiddle sono grandi? si wow sono davvero grandi era piccolo prima ma è diventato grande a causa della pozione sono così piccolo che cos'è questo? eri una buona persona unisciti alla nostra squadra ora Ziphyr era una lumaca piccola che una ragazza ha trovato sull'albero ma ogni giorno diventava più grande wow bella lumaca voglio adottarlo nanna 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 mi dispiace ma ti lascio bambino ti ha abbandonato perché eri troppo grande è così triste faceva jumpscare alle persone per liberare la sua labbia mostrami il tuo jumpscare sono due persone rimaste ma perché è così piccolo? era più piccolo di un atomo vediamo wow è così piccolo poteva trasformare la sua dimensione in una dimensione più grande di quella di Godzilla mostrami omg quando si trasformava in ultra piccolo ok ho bisogno di te nel mio team l'ultimo era super grande perché aveva ucciso tutti nella leggenda dell'alfabeto era così grande che tutti nel mondo potevano vederlo era il migliore nel risolvere problemi matemati ok amico sei nel nostro team vai al posto giusto ok il mio team è pronto dai tutti i tuoi poteri sto diventando troppo grande wow facciamo l'ultima battaglia ok inutile salto oh no ah e adesso cosa? oh no jumbo Josh è stato ucciso con un cecchino e non preoccuparti troverò chi l'ha fatto prima il cattivo dal film ho cercato di spararli ma qualcuno lo ha salvato oddio ma il prossimo proiettile è passato attraverso di lui si ma è sopravvissuto oddio quindi voleva ucciderti dopo che l'hai sparato si quindi ho usato carri armati e esercito cosa è successo dopo? ha distrutto i nostri carri armati non mi distruggerai mai io e il mio padrone classico jumbo Josh W non sei stato tu ma jumbo Josh è stato ucciso e vedo le piume di Shika e Freddy stavamo cercando di vendergli del cioccolato ma era strano e vuoi comprare un po' un po' di cioccolato? ne prenderò uno grazie poteva eliminarti non tu lui oddio Bambam li hai uccisi sto mangiando personaggi di giochi popolari ma non ho mai mangiato jumbo ho così tanta fame lasciano mangiare carne è molto cattiva o vedo qualcuno di buono ancora cattiva carne oh aspetta era mio amore adesso lumaca ok nessuno di loro era buono ma penso che questo ragazzo possa avere un sapore migliore cosa stai facendo? oh mi dispiace ok quindi ha quasi ucciso te fratello jumbo era brutale oh mi aspetta chi sei tu? ero nella casa di jumbo ed era spaventato di me perchè questa cosa è nella mia casa? aspetta ora è nella mia lavanderia devo andarci aspetta la vedo è realmente qui oh no ehi tu quindi l'hai ucciso il caso è chiuso no è sopravvissuto non puoi spaventarmi in casa mia fratello quindi chi l'ha fatto? ho visto Tamataki accanto a lui tu l'hai ucciso no mi ha eliminato vieni qui o hai paura di me è troppo mi hai sputato addosso jumbo è davvero brutale hmm non ho ancora alcuna prova ehi popcat controlla meglio bambam oddio oh oh non puoi scappare ora per favore non uccidermi per favore no grazie puffy bambam sei un sospetto ora ok volevo spaventarli bello ti ucciderò ti hanno colpito con l'autofratello non sono tuo fratello oddio fluffy mi hai salvato grazie aspetta ma chi è questo? cosa stai facendo accanto a jumbo josh? mi ha adottato quando ero giovane lì mi odiava nanana umme chi è questo? che dolce uccello ti adotterò umme omg impossibile no 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 man sai cosa? sei troppo dolce per arrabbiarti con te ehi opi la aspetta fratello è un maledetto tsunami no god please no ma lo pulirò fatto nu è troppo esci dalla mia casa ora dieci anni dopo aspetta qualcuno sta suonando sei tu uccello? metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per un anno è morto no lo prometto aspetta il mio schermo sta dicendo bibi è qui ciao ho hackerato il capitolo 4 del giardino di bambanna cosa? wow il nuovo capitolo sarà finalmente lit ma hai ucciso opi la e jumbo no non l'ho fatto perché dovrei? amanda c'è solo un hacker in questo mondo io oddio hai ucciso bibi ma hai ucciso jumbo no mai stavo solo prendendo in giro lui ehi jumbo lascia che ti disegni dei muscoli ok ha funzionato ora cambiamo il tuo volto cosa? facciamone uno nuovo ora aggiungiamo delle gambe divertenti per favore fermati ok ho finito? ciao è stato brutale ma ho visto che è sopravvissuto oh no oddio chi le sta sparando? no firma l'hai uccisa quindi forse hai ucciso anche jumbo no stavo valutando i jumpscares dei personaggi del giardino di bambanna prima questa cosa prossimo uno pallone da basket ok prossimo i figli di opila tu vai al capitolo 3 per me perché sei dolce prossimo canguri prossimo bene prossimo fiddles con i pantaloni a ora prossimo nab nablena e nab nab buon jumpscare quindi ora meglio ok prossimo bambalena mostrami qualcosa prossimo uccello opila ok tempo per ban 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 quindi ora robot ban ban quindi il prossimo è il mio preferito ragazzo dal naso lungo ok quindi prossimo abbiamo la lumaca selene mi piacciono i jumpscares così ma ora tempo per stinky joel ora è il momento per long joe bacio e nibbler kanguro fa tauro dall'ohaio A Gah ah Ok quindi prossimo pigster Questo ragazzo Ok andiamo avanti Ne voglio uno tuo Fa male Di notte Ehi tu Cosa? Il tuo jumpscare mi ha fatto esplodere quindi ora è il momento della vendetta L'hai inciso Il caso è chiuso No aspetta non l'ha fatto Cosa? Ha sopravvissuto a questo jumpscare e poi mi ha bullizzato Questo è così cattivo Spero tu sia sopravvissuto Sì quindi sono qui Oddio no way Qualcuno ne ha fatto un pancake Ho sentito dire pancakes Perché mi hai spaventato? Hai spaventato anche Jambo? Sì Aspetta cosa? Eravamo su uno ship Dai vai più veloce Ok ok Sono bloccato Sono bloccato Penso che sia scivolato Oh mi dispiace Aspetta È morto Non mi sento bene No Ha sopravvissuto al 100% Oh my god Mister Beast Impossibile Impossibile Sono un grande fan Grazie Non mi sentito cosa ho fatto Non preoccuparti ti darò il mio cuore Grazie ma mister Beast cosa ti succede? Sto morendo Sei un eroe Grazie ma penso che lo sceriffo sia sospetto Stavo solo mostrando i loro veri volti Ora è il momento di vedere i vostri volti Bambalena No Per favore no Sì per favore sì È un ragazzo Fratello Prossimo uccello opela No per favore Cosa? Tipo sospetto Ok è strano Voglio vedere la faccia di Jambo ma ora Silent Steve OMG Oh mio dio Gigachad dai video di Mister Beast È me che mi hai preso Ok pigster ora What? No John Pork Hai hackerato Cartoon Network Un influencer di nome John Pork è stato trovato morto sulle rive del fiume Colorado I primi soccorritori sono arrivati sul posto questa mattina dopo diverse testimonianze oculari Che diavolo Ok prossima lumaca a Selene Krik Craft Non calvo Prossimo Nab Guarda i video di Mister Beast Prossimo uccello opela Cosa? George Not Found Fiddles Ciano Per favore non farlo Lo farò Mi dispiace Mister Beast Prossimo Stinger Ha a bel faccia fratello Ok prossimo è mio fratello sceriffo Flamingo 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 Andiamo Prossimo Nottles Dababy andiamo E l'ultimo Se lo farai ti spaventerò Il mio preferito Il mio preferito Li prendo io Ok prendiamoli Non può essere così No i miei giocattoli Il caso è chiuso Ho visto che Jambo era morto No era solo un giocattolo HMM quindi chi potrebbe essere? Aspetta Elefanti Guarda ho un bambino Non potevo eliminarlo Aspetta Hai dei bambini? Sì Oddio così dolce Nuki li ha storditi Lumaca No non l'ho ucciso Stava solo schivando i miei attacchi Bene l'uomo diavolo rosso Non ha funzionato Quindi eccoci qui Sospetto Molto sospetto Aspetta Chi è questo? Ti assicuro che non l'ho ucciso Stavamo solo lottando per una ragazza Pesche Ti amo OMG è così bello Lei è la mia ragazza Ah vieni da me Il troppo Ti abbiamo preso Non combattere mai per le ragazze Non è Sigma Non l'ho ucciso Te lo prometto Impossibile Chi l'ha fatto? Aspetta Chi è questo? Vieni qui Ehi Cosa? Indovina chi è reale ora Oddio Ok Mostrami i tuoi spaventi ragazzi Prima Non fa paura Ok successivo Spaventoso fratello Prossimo Bello E l'ultimo Spaventoso ma sei falso Wow è una bambalena Quindi ora dite qualcosa ragazzi Piacere di conoscerti Vedo tutto Sento tutto Suoni come Zolfius Prossimo Siento lo siento Cosa hai detto? Va bene non importa Prossimo Grazie a Dio Sono così felice che tu sia qui Pensavo che fosse la fine Mi guardavo intorno e sono entrato nella stanza della sicurezza Non è la voce di Zolfius Ok l'ultimo Dove ti nascondi? Per favore Fa male Ehi quest'ultimo sembra falso Oddio Numaka Selene Sono così vicino all'originale Ne restano tre Ho sentito dire che Zolfius era forte Quindi colpisci questi muri e vediamo Dai Ok il prossimo giallo Era più forte Ok il prossimo Il migliore di tutti Quindi questo è falso Nab Nab Ok quindi ne restano due Quindi sto rischiando e uccidendo l'ultimo Oh Pia Avevo ragione Quindi perché eri qui? Odio Garten di Bambane e ho fatto jumpscare fight Bambam versus mostri più spaventosi È tempo di fare la battaglia finale Sei pronto? Vai Sei pronto? Vai Sì personaggi vinto Quindi hai ucciso Jumbo? Sì mi dispiace Andrai in prigione Ok ce l'abbiamo Ho visto tutte le vostre vere facce E ora è meglio che vi nascondiate o ve le mostrerò Aspetta cosa? Scappiamo Non posso scappare Mi nasconderò dentro Qui Wow bel posto Vi vedo No Oddio ho sentito qualcuno morire Lei l'ha ucciso Trovarli è troppo difficile Devo accendere i raggi X Vedo qualcuno lì Salta su Ok il prossimo è qui Lei è lì Aspetta cosa è questo? A stella Dove? Corri Ciao ciao maiale Schierare un nuovo mostro Ok devo trovare il prossimo posto Aspetta Questo è il nuovo cercatore Qui Pensavo che ci fosse qualcuno qui Ma ti vedo No Penso che se ne sia andato Velocemente Wow Perfetto Ti vedo Penso di sapere dove si trova No dove devo andare Corri Facile Vieni un nuovo mostro Oh no nuovo mostro Corri Qui Oh no Questa stanza non sembra sicura Oh no Non so dove scappare Wow dove sono Oh no È la mia fine Devo saltare È l'unica opzione A A è morto Non ancora A Nel frattempo Sono tornato Ed è ora di imbrogliare a nascondino Drone Che cos'è questo? Ti ho preso Oh no Sta barando Non è giusto Aspetta È tempo di scivolare Aspetta no Dove dovrei nascondermi? Qui Ok Velocemente Ora via Finalmente Qui siamo al sicuro per ora Oh grazie bambalena Hai anche una piscina qui Non sembra normale Oh my god Vero ma aspetta Cosa? Guardate dietro di voi Di cosa stai parlando? Oh no Stinger Vieni qui Oh no Nascondersi velocemente Forse qui Ok Devo trovare un nascondiglio Mi chiedo se c'è qualcuno qui Oh no Qui Dove? No 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 Oh cibo Mi sento così bene Mi vedrà Sento l'odore di qualcuno Oh no Scappo Torna Così vicino Ragazzo Resterò qui Devo usare il bambam volante Cattura qualcuno Ok Non c'è modo Come mi hai trovato? Oh no Velocemente Pozione Non c'è modo Dove è andato? Non lo saprai mai Dai Have a great time Ah facile Me ne vado da qui Veloce Ho bisogno di un uovo nascondiglio Aspetta qui Wow Oh my god Ehi Cosa ci fai qui? O me nascondersi Attacca No Non c'è modo Correre Cosa hai fatto? No Torna poca Correre Pulsante Wow Questo è etico So dove è andato Mi servono rinforzi Siamo qui Prendilo Non stanno arrivando Devo uscire Oh La prossima pozione Sono fortunato Bego Bello Dove è andato? Oh Lo vedo È piccolo Scappo via Facile Oh no wow Nel frattempo Sento che c'è qualcuno qui Aspetta Oh no Mi ha trovato Vieni qua No Mi dispiace maiale Ma è la tua fine No Wow Ho trovato questo posto illuminato Il cercatore è qui Devo stare attento Popcat Spara Ok Bravo Popcat Oh no Qui Wow Il miglior nascondiglio di tutti i tempi Dove sono e chi è questo? Dottore che sta arrivando Come? Dove è andato? Un giorno dopo Ok Sono rimaste solo 5 persone da mangiare Schierare i due mostri Credo che questo maiale sia troppo lento per prenderci Umè aspetta Nu Nascondersi velocemente Evviva Penso che questo maiale sia troppo lento per prendermi Aspetta Jumbo Nab Nab Sono laggiù Stanno arrivando Nasconditi Ci sono solo alcuni polli Co 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 Non siamo sus Metti mi piace e iscriviti per avere l'uovo d'oro accanto al tuo letto domani Era così vicino Un'ora dopo Questo posto è orribile Umè aspetta Siamo nuovi cercatori e vi prenderemo Fratello e sorella lo attaccate Sposto Umè Pensa che non lo troveremo Oh no Cercherò di nascondermi nel frigorifero Adesso Aspetta cosa c'è dentro Pozione Cosa Devo berla rapidamente Umè Ti vediamo Noi ti vediamo Devo diventare più piccolo Sto uscendo Oh no Veloce Morirò qui Non c'è posto per nascondersi Umè cosa Torna No Devo scappare Wow un nuovo posto Vedo pigster Prendetelo ora No Scappo Umè sono dentro di lui Fratello l'hai mangiato Fratello l'hai mangiato Oh mi dispiace tanto Usciamo da qui Aspetta sono ancora dentro di lui L'hai preso? Sì Sto uscendo da qui Umè Aspetta come Umè Scappo Qui E' scomparso Ok ci servono altri mostri I bambini entrati Ora prendeteli No Stanno arrivando Mi nasconderò Qui Bello So che è lì Lui è Mi veloce Ciao Ehi torna indietro Siamo così grassi Ok ce l'ho fatta Sono in classe con Bambalena Bambalena Pensavo fossi morto Oh non importa Lei è morta Hoppia ciao Nasconditi Popcat Oddio No No E' morta Pensi che non sappia dove sei E' la tua fine So dove sei Dove è andato? 20 secondi prima Devo uscire da qui Oh Wow Oh no Ho sentito che Stinger è morto Penso che nessuno mi troverà Ti vedo No per favore Qui Umme Vieni qui Sì mamma prendilo Lasciami in pace Lei è un perdente in piedi Quindi siamo vivi solo io e Jumbo Sono vivo ma aiuto Qui Wow Sono troppo grasso Lo farò per te mamma Oh no Sta entrando Wow Sono al sicuro qui Non per molto Ma qui di sicuro Non c'è modo Ok Jumbo è morto Quindi ora devo sopravvivere e vincerò Aspetta Non c'è modo Quale scivolo scegliere Pigster Sono nello scivolo Oh no Chi è questo? Torna Sto scegliendo questo Oh no È la mia fine No fratello Siamo qui per aiutarti Oddio Nub Nub Nubs Non c'è modo Wow fratelli Abbiamo vinto Grazie a tutti per aver guardato È tutto per oggi Ricordate Non mollate mai